C'è un lembo di terra che si incunea nella Svizzera, un lembo di terra in cui la natura è ancora forte, quasi prepotente, e l'opera dell'uomo si è limitata nel tempo solo a qualche rifugio. Siamo in Valformazza, estremo nord del Piemonte, e il nostro obiettivo è il rifugio Città di Busto, circa 2500 metri. Da Domodossola si arriva in auto fino alle cascate del Tocce, poi dal bacino rumorasco a circa 1800 metri si procede solo a piedi. Lasciato il lago alle spalle si sale in un primo tratto per arrivare al vasto pianoro di Bettelmatt, da qui nuovo strappo in salita e si arriva al rifugio. Non ci sono pericoli, ma la camminata richiede un certo sforzo a chi non è allenato. In meno di tre ore comunque si è al rifugio, che ha un particolare legame con la città di Busto Arsizio. Com'è questo legame tra la città di Busto Arsizio e questo luogo all'estremo confine del Piemonte, quasi con la Svizzera? Beh, noi siamo notoriamente legati comunque più al turismo lombardo che non a quello piemontese, per esempio in Piemonte, ma sempre per ragioni proprio di viabilità, di storia, siamo più legati comunque a questo territorio. La costruzione dei rifugi in montagna, non solo qui, ma su tutte le Alpi ci sono diversi rifugi edificati, che portano il nome di diverse città e Busto Arsizio proprio per questi motivi era legato alla Val Formazza e ha edificato, i cittadini di Busto Arsizio hanno edificato questo rifugio. In che anno? Nel 1927, di fatto questo è il primo rifugio edificato in Val Formazza. Voi siete aperti da giugno fino a? Fino a settembre, diciamo che l'inizio e la fine sono sempre elastici, perché qui il tempo la fa da padrone, quindi a giugno si sale, c'è sempre ancora neve e se ce n'è poca si apre, se ce n'è tanta si rinvia di una settimana o due. Lo stesso vale per la chiusura di settembre, in base a quanta neve, quando arriva la neve e quanta ne arriva si chiude. Comunque di solito fino al 20 di settembre sicuramente se si riesce fino a fine settembre. Grazie